Musica 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 e Agile che c'è sempre. E' un'altra cosa che volevo dire con questo cronologo. Agile che è un posto aperto, Agile che è un servizio dei vite non è un portino, non abbiamo un po' bellissimo palazzo, palazzo dei diamanti, che però in tutte le nuove, che ha solo con le punte, e il termine con quello che ha fatto i diamanti di terra. In realtà è una scuola che si chiama la città, non vogliamo che la città possa parte di questa aldeia. E' una aldeia che lavora con la miniaturazione, tanto servire il cittadino. Vogliamo che questo loro modernità è accessibilità, semplicità. Miracoli come possiamo fare, non lo faremo in un mese o due mesi, però abbiamo iniziato in modo importante questa diversa impostazione. Accessibilità vuol dire anche accessibilità per via informatica, evitare le code, evitare le attese. Ci metteremo un po' di tempo, l'importante è raccominciare, noi siamo convinti di tutto. E quindi adesso tutto questo, praticamente, non da me ovviamente, ma da dei bravissimi collaboratori che abbiamo scelto, e questo ne sono orgogliosa, ma una selezione durissima, perché quando avevamo fatto l'avviso di interesse, abbiamo avuto richieste da aziende che venivano camminando, da Comune, da Roma, che avevano fatto un interesse, che per chi l'abbia fatto sia stato stimolante, mettersi in gioco su un cambio di alleggiamento psicologico. e quindi andiamo avanti su tutto questo, perché praticamente è stato trattato di un prego. Cominciamo a fare cose che ti vado a vedere, perché quando io ho la sua famiglia, mentre da dei mali non si è successo. se vedete nel simbolo che è rispondante, noi che ci ce l'abbiamo scelto provati, perché alla fine è quello che è il polo di investimento di altri, perché altri che è nata, per dire, le carte, il tipo popolato, chiamiamolo di fare come comunità. Quindi a me è piaciuta molto, a noi che ci ce l'abbiamo scelto di tutti insieme, perché io ho sentito una piccola, una spirata, una serie di palazzi, quindi una strada, che dovrebbe essere una strada di un milione, se non possiamo, però non è un bel, però non è un certo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un ringraziamento, intanto, ed è vero, il consiglio di amministrazione a tutti i collaboratori di AGEC, perché è vero che stiamo lavorando insieme per raggiungere insieme dei buoni risultati, anche perché in Cia quasi con un pacco non scritto abbiamo lasciato la politica al di fuori e abbiamo una mentalità aziendalistica per raggiungere insieme dei risultati. Quindi io ringrazio tutti e quattro i componenti del Cia, da Renzo Begalli, a Maria Lucia Pezza, a Luciano Laita e l'ultimo, ma non ultimo, come è tutto, in importanza a Daniele Giacomozzi. L'altra cosa che volevo sottolineare, forse può essere passata diciamo velocemente per le tante cose che ha detto il direttore, abbiamo abbandonato il simbolo del diamante che si porta a questo palazzo dove noi siamo per prendere un simbolo diverso che voglia essere vicinanza maggiore con i cittadini per i servizi che i cittadini dobbiamo e vogliamo fornire sempre meglio. Ma perché noi stiamo lavorando sull'ipotesi di abbandonare questo palazzo in centro alla città perché la vendita eventuale di questo palazzo può tradarci delle risorse economiche che non ci serviranno per fare ma ci serviranno per ristrutturare appartamenti per dare migliori servizi ai cittadini e per andare in una sede più consa più sobria certamente meno elegante da un certo punto di vista ma più funzionale a quella che è la mission di questa azienda. Grazie.